Ciao ragazzi, sono Happy, bentornati su Mega One Intanto lasciate un like se vi sta piacendo questa settimana di Halloween Oggi siamo di nuovo con Barbara con nuovi video lollosi a tema di Halloween Vai Barbara E ciao ragazzi, ciao Happy, oggi apriamo due nuove Nanana Surprise Serie 3 No Lara, veramente no Come? Cosa si fa oggi? Dolcetto scherzetto, giusto? Sì Ebbene, dovrai meritartele Caramelle? Le Nanana E anche gli scherzetti Oh no Oh sì Vedi quel coniglietto laggiù? Sì Sarai il nostro forziere di Halloween Dentro ci troverai dolcetti Nanana O scherzetti Ci stai? Ci sto Iniziamo Bene, bene, adesso devo mettere tutto quanto qui dentro Dovresti accecarti un attimo? O coprirti gli occhi? Brava Ti raccomando, non sbirciare Tranquilla Ho fatto Questo si chiude Togli, togli pure il cappello Puoi guardare Adesso dovrai Infilare la tua manina all'interno E Prespescare le tue sorprese E scoprire se saranno dolcetti O scherzetti Unica regola, Lara Non potrai cercare con la mano Altrimenti troverai la bambola Dovrai prendere la prima cosa che ti capita a tiro Aiuto Ma è vuota Oddio Che cos'è? Eh, tirala fuori No, 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 aiuto C'è un po' Che cosa? Aiuto Aiuto Oddio, ma senti? Cosa senti? Che cos'è? Ah, è finto Meno male che è finto Cioè, perché sentivo questi zampetti Ma dai, guarda quanto è carino Un bel regnettino Da compagnia Poi avanti Era uno scherzetto Vediamo adesso Che cos'è? Sì Caramelle? E quindi c'è stato un dolcetto Non le mangiare su... Ma cosa stai facendo? Ma le devi assaggiare subito Sei una golosona Come sono? Buonissime Ma non è finita qua Pronta Che cos'è? Oh mamma mia Che cos'è? Aiuto Tira fuori Non mi dico, è sangue Aspetta Ah, è ketchup Monco che schifo Sì, prendiamo il gioco È pulita la mano? Sì, sì, l'ho pulita Ok Allora vai Ora che è pulita vai Ho paura Vabbè tanto sarà sicuramente Una volta che mi dici così Per farmi spaventare Poi non è vero Vai, vai E poi devo guarda Ci troverò sicuramente Le caramelle Tutte belle Ma è vuota che Ma Ah, ho capito Che cos'è È slime All'inizio mi sembrava Un cuore Troppo assimile Giusto per sapere Quante schifezze Ancora devo toccare? Baffa Hai finito Adesso apri Perché sono rimaste Soltanto le nananà Apriamo Eccoli finalmente Stai masticando Un'altra caramella Sì Mentre Lara è concentrata Io vi posso dire Che questa è la serie 3 delle nananà E che finalmente Le scopriamo Insieme a voi La confezione è Leggermente diversa Da quelle delle serie 2 e 1 Perché sono spuntate Le orecchiette Sul coperchio Della scatola Dentro abbiamo La cannuccia E la bustina Ecco Ma la devi riempire Non svuotare Non gonfiare troppo Perché già Abbiamo fatto Dei Ricordi D'altra volta Appunto Ho paura Ho paura E sono verso di me Bravo Meno male 3 2 1 Via Oh che bello Tanti coriandolini Da togliere Oddio Oddio che bella Che bei colori Borsetta Checklist E due bustine Prima bustina Dei scarponcini Bianchi Vediamo cosa troviamo Ah Sono così Pantaloni Ah no E' una salopetta Di perle Esatto E Una maglietta Così Sembra da baseball Un maschietto Si è un maschietto Guarda che carine Le mutondine Con i coriglietti Vestito Ve lo faccio vedere dopo Ma adesso Apriamo l'altra 3 2 1 1 Vestitino E' in pelle pure questa Si è una golnellina In pelle Con tutte le cinghie E qui c'è tutto Miau E qui c'è un Così un tozzo Così guardate Tutto dorato Tutto dorato Apriamo l'altra Scarpine Nere Sempre con scritto Miau Carina Tutta biondata Un po' mi comiglia Apriamo gli stessi capelli Magari non ho lo stesso trucco oggi Esatto Pronti? Sono perfetti Sia per il mio look E sia per Halloween Tada Eccoli qui Allora Lei E Sasha Scratch Lui E Jeremy Visto che Quest'Halloween Si sta a casa E non ho nulla da fare Almeno gioco con loro E mi guardo Mega Wow Ragazzi Siete pronti Per un super Halloween? Certo Che si fa? Beh Guardiamo un po' di video Di Mega Wow E di Barbara Lara Giusto Ciao ragazzi Un bacio a tutti quanti Ciao Ciao Eki Oh no È già finito il video Incredibile Come passa veloce il tempo Quando ci si diverte Noi ci vediamo domani Con un nuovo video Ciao Mi raccomando Ti aspetto Ad an Sbrig Ciao Ciao Grazie a tutti.